good morning qui sono le 11 sì e come dico in questi casi certo non proprio mattina prestissimo è una mattinata tarda infatti ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente ooooh semplicemente david lynch it's march 6 2022 and it's sunday it enables a cloudy morning totally cloudy morning e very still right now anche se c'è un vento comunque non proprio leggerissimo 53 and 6 fine at 12 celsius and this means that for me non è quella giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo devo dire che in realtà mi aspettavo un marzo già diverso senso già con gradi in più invece sembra più un nuovo gennaio che sta facendo veramente freddo in generale non per la mia percezione ma in generale si vede però che lo fa qui non mi aspettavo ma adesso comunque la primavera ancora un po lontana e poi in genere si dice che marzo un po pazzo ad ogni modo almeno in italia si dice non so se dice o si dice anche a tutte le parti ad ogni modo invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto il dicembre scorso per capire quali sono le due pratiche che utilizza per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo e questa è una cosa che dirò appunto fino a sopraggiungere la primavera per quanto riguarda il video sui pensieri come sempre lo faccio separato da questo come da quest'anno per cui se vi interessa occhio per quanto riguarda la temperatura credo possa anche diminuire la temperatura credo per quanto riguarda la temperatura si abbasserà diciamo ma vedremo può essere passano che si alza non lo possiamo dire comunque it seems that in this way we surely don't have we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine ma ma direi mai lo sapete la mia frase culte ovviamente le cose possono sempre cambiare il momento all'altro ma ta so questo è infatti potrebbe pure cambiare quindi vediamo un po aggiorno magari voi più tardi nella descrizione ma say that it is so from the mythical window with the colored curtain certo brutta inquadratura comunque la lumina un po and it's green roller shooter behind me on the top not visible and factor in this shot and finally from a mythical keyboard the amari gx 640 ipg 625 ever great day in all the people who follow the channel and the reports si un saluto davvero a tu e poi si prima di chiudere un saluto alla nuova iscritta diciamo quanto ho capito che si chiama lila katharin hai io un saluto sempre speciale diciamo alle alle donne perché per me sono meritano un posto a parte sono speciale anche quando mi commentano ha avviso un'altra considerazione un'altra e un'altra considerazione per me oltre al fatto che sia soggettivamente ma è anche oggettivo siete sempre più importanti di noi uomini senza di voi praticamente non dico che non saremmo nulla però non saremmo quello che siamo quindi grazie e poi si se mi vuoi spiegare diciamo quel bene con l'espressione te ne sarei grato come ho già scritto nel commento perché io sono italiano poi non ho studiato lingue conosco ovviamente altrimenti non potrei dire certe espressioni in inglese o in americano però quell'espressione non la so quindi ti sarei grato se è dietro se mi dicessi il vero significato con l'espressione comunque ti ringrazio poi questo i saluti li faccio in genere quando si iscrivono nuovi membri li noto li saluto sempre poi il giorno dopo comunque dopo che noto il loro Nick Dream mi guardate il report poi alla fine i saluti li saluto quindi è una cosa tradizionale sì diciamo al video pensiero allora ci vediamo se lo faccio penso di sì qua domani grazie Lila grazie